Ci troviamo qui sulla piazza di Betlemme in un giorno nebbioso di primavera perché oggi ispira vento del deserto. Invece che guardare la parte della piazza antistante la chiesa della natività, guardiamo oggi fuggevolmente quel che ci sta di fronte. In particolare qui abbiamo questo Betlemme Peace Center che dal 1995 ha sostituito la caserma della pulizia e il carcere. Sullo sfondo invece, alle mie spalle, c'è la moschea che è proprio di fronte o di rimpetto alla chiesa della natività. Curiosamente questa moschea, questo luogo di culto musulmano, è sorto con il favore dei turchi sulle rovine di una chiesa ortodossa. Oggi è una costruzione abbastanza moderna, è stato innalzato anche il minareto, alto ovviamente più del campanile della natività. Possiamo vedere in particolare i disegni sopra le palme del minareto e sopra più alto ancora abbiamo i famosi altoparlanti che diffondono l'invito alla preghiera in modo molto forte, in modo particolare qui sotto. Recentemente invece che una fila di altoparlanti è stata aggiunta alla seconda fila e quindi l'invito alla preghiera risuona sempre molto forte o molto più forte. L'interessante è che anche in questo luogo c'è questo continuo richiamo alla preghiera. Da noi il mondo islamico è visto come una alternativa, una contrapposizione al mondo cristiano. Qui c'è anche una certa continuità, anche territoriale. E bisogna dire che anche in una recente intervista fatta con l'iman qui della moschea ci ha voluto spiegare tutti i passaggi che nel Corano riguardano Gesù e la Virgine Maria. Ecco, oggi abbiamo visto brevemente quest'altra parte della piazza della natività o della mangiatoia. E' un esempio tipico di come convivono qui, talvolta si contrastano, ma anche convivono qui queste grandi religioni, a dire il vero, hanno però una radice sola, che è la parola di Dio, che è la rivelazione fatta da Dio nell'Antico Testamento, cominciando da Abramo e avanti. Ecco, per loro, per i musulmani, l'ultimo profeta, il grande profeta, è Maometto. Per noi cristiani, il profeta, e non solo il profeta, ma il messaggero di Dio, l'inviato di Dio e soprattutto il figlio di Dio, è Gesù. Questo ci piace dirlo, non solo nella parte della natività, ma anche in questa parte della piazza della mangiatoia, qui a Betremme. Grazie a tutti.